No, paura non ne dobbiamo avere anche perché segnalo che non soltanto Salvini ha intessuto dei rapporti con Putin a suo tempo, ma io ho visto stamattina delle fotografie sui giornali dove Putin è ritratto accanto a Monti, per esempio, che è stato Presidente del Consiglio. Sì, eccolo qua. Sappiamo poi di Berlusconi, Berlusconi era amicissimo di Putin, poi vediamo Letta, pure Letta. Non mi sembra così strano che Salvini abbia avuto dei buoni rapporti e abbia avuto fiducia in lui. Indubbiamente poi il fatto di cui stiamo parlando è talmente grave, per cui siamo tutti abbastanza indignati. Però ricordo che anche in Italia c'è un suicidio al giorno nelle carceri, vuol dire che non sono molto ospitali. E poi ci sono stati degli episodi abbastanza condannabili, per esempio recentemente un detenuto è stato torturato dagli agenti di custodia e non mi sembra che la cosa abbia suscitato molto scandalo. Insomma, dobbiamo stare attenti a criticare gli altri se anche noi spesso ci comportiamo molto male. Quindi attenzione. Poi certo, un pugno, questa è una cosa assurda che noi non riusciamo neanche a concepire. Un pugno addirittura che uccida una persona. Comunque io se fossi stato nella vittima non mi sarei mosso dalla Germania, ben sapendo che tornando in Russia non avrebbe avuto una grande ospitalità. Ecco, io rimprovero questo alla vittima. Poteva starsene tranquillamente in Germania, dove la vita è sicuramente meno dramma che in Russia. Tu giustamente ricordi il fatto che il Navalli a un certo punto ha scelto lui di ritornare in Russia proprio per continuare a combattere quella battaglia.